Uno degli aspetti più importanti dei film di fantascienza è sicuramente la realizzazione delle creature che incontriamo durante le avventure spaziali dei protagonisti ed infatti, così come nel racconto di Frank Herbert e nel film di Denis Villeneuve in Dune, il sandworm, il verme delle sambie, ha un ruolo molto importante nella storia. In Dune Villeneuve ha messo in scena qualcosa di incredibile e clamoroso con la realizzazione del pianeta Arrakis nel quale si svolge il film, in quanto, visto che è un pianeta desertico, ha nel suo perno centrale appunto il verme delle sabbie che vive nel deserto. Ma vediamo come è stato realizzato e concepito il sandworm per inserirlo nel film. Bryce Parker, produttore degli effetti visivi di Dune, e Mark Mancini con Theo Green, i supervisori del suono, hanno realizzato questa incredibile creatura. Progettare i vermi stessi è stata un'impresa, come ha spesso sottolineato Vingled, ha quindi iniziato a lavorare su Dune subito dopo aver finito Blade Runner 2049, addirittura nel 2017. Lavorando con lo scenografo Patrice Vermette ha trascorso mesi cercando di ottenere il design perfetto per i vermi, le loro dimensioni, la loro consistenza, la forza di cui avrebbero bisogno per muoversi attraverso tonnellate di sabbia. Pensate che il film è stato girato tra il deserto degli Emirati Arabi e quello della Giordania e per girare le scene che avevano bisogno di effetti visivi non è stato utilizzato il classico green screen. Infatti il pannello verde che tutti conosciamo è stato sostituito da un sand screen, in quanto al posto del colore verde è stato utilizzato un colore beige, visto che le sfumature del deserto miravano appunto verso quelle tonalità. Questo sand screen ha permesso a Villeneuve di realizzare tutti i suoi scatti di bellezza nel deserto e a Lambert di aggiungere facilmente tutto ciò di cui aveva bisogno in post-produzione. Tutto quello che doveva fare era scambiare il colore della sabbia con qualunque edificio, sfondo o bestia desiderasse. Ciò ha permesso che ogni ripresa sembrasse il più naturale possibile e ha anche permesso loro di creare una delle creature più iconiche della fantascienza, in quanto il Verme delle sabbie di Dune, soprattutto nella seconda parte, è una delle creature più iconiche del cinema e delle quali sentiremo probabilmente parlare anche in futuro. Come descritto da Frank Herbert nel suo romanzo, i Verme delle sabbie sono enormi creature che vivono nelle vaste sabbie di Arrakis e producono quindi la spezia, la sostanza più preziosa dell'universo conosciuto. Per i Fremen servono anche come mezzo di trasporto, si agganciano con le redini al loro esterno scaglioso e stanno in grotta. In questo modo Lambert poteva filmare un attore sul posto, mentre faceva finta di cavalcare i Verme. Una delle scene più importanti di Dune parte 2 è proprio la cavalcata di Paul Atreides a dorso di un Verme delle sabbie, uno dei più grandi del pianeta in quanto decide di provare a superare questa prova per dei Fremen e riesce a cavalcare questo Verme gigantesco. Questa scena, come sottolineato anche da Denis Villeneuve, è stata girata in due anni circa e dura poco meno di due minuti. Innanzitutto Chalamet doveva cavalcare un suo porto ricoperto di beige con i colori del deserto per poi sostituirlo con la CGI. Veramente un lavoro enorme fatto in post-produzione che ha permesso però di goderci una delle scene più mozzafiato del film. I green screen o meglio i sand screen utilizzati per Dune potevano essere inseriti in qualsiasi parte durante il girato della pellicola. Infatti proprio durante quella scena uno dei sand screen è stato inserito sotto il supporto nel quale Chalamet era posizionato e quindi poteva essere tranquillamente inserito il Bermone in post-produzione e al computer. Veramente un lavoro certosino da parte dei addetti alla computer grafica che ci hanno veramente stupito. Oltre alle musiche che incorniciano alla perfezione questo secondo capitolo di Dune, c'è da sottolineare anche il sonoro che come al solito è stratosferico. Il lavoro fatto per creare il verso del verme gigante è stato incredibile in quanto l'addetto al sonoro stava cercando in tutti i modi per trovare una soluzione per riprodurre questo gorgoglio, questo risucchio che rispecchiasse alla perfezione l'idea che proprio Herbert aveva di questo rumore del verme e la stessa cosa cercava di fare Denis Villeneuve con la sua produzione. Proprio l'addetto al sonoro di Dune, Mark Mangini vinto l'Oscar per appunto il primo Dune, ha cercato di ricreare questo suono in tutte le maniere fino a quando ha avuto una brillante idea. Il suono che sentiamo effettivamente viene da uno stomaco ma viene dalla bocca dello stesso Mangini perché l'addetto al sonoro ha inserito il microfono all'interno della sua bocca vicino l'ugola praticamente quasi ingoiandolo e ha aspirato profondamente. Quello che sentiamo è semplicemente l'aspirazione di Mangini riprodotta e aumentato di volume all'ennesima potenza. Incredibile cosa possa fare il cinema e cosa ci sia dietro a questa grande produzione. Mangini ha quindi dato vita al sogno di Denis Villeneuve che aveva richiesto un suono che provenisse da uno stomaco lungo 400 metri e sembra ci sia riuscito. Quindi il regista molto contento del risultato ha approvato e il risultato finale appunto lo vedremo al cinema. Io ho visto il film in anteprima e ne parlerò nei prossimi giorni e devo dire che probabilmente è una delle space opere più colossali che si sia vista in sala. Anche se molti lo paracorrono al secondo capitolo di Star Wars, l'impero colpisce ancora. Anche se secondo me ha dei piccoli problemi che poi affronteremo insieme al riguardo. Ragazzi questo è quello che c'era di interessante nella realizzazione del sandworm, del verme e delle sabbie perché ho pensato di raccontarvelo visto che tra poco arriverà in sala e voglio sapere voi cosa ne pensate di questo di una parte 2 e della realizzazione soprattutto del verso dello stomaco di Mangini per quanto riguarda il sandworm. Grazie a tutti per essere arrivati fin qui, io sono Valerio, buona giornata da Ciacchiazioni e dal mio San Juan, o B Juan. Ciao a tutti ragazzi e arrivederci.